Chi vorreste che fosse rilanciato in WWE nel 2021, uscendo un po' dal circolo dei soliti nomi? Datemene tre qui sotto nei commenti, spiegandomi anche perché godono della vostra preferenza. Mi raccomando, però vanno scelti gli outsiders, se nominate gente che sta già stravincendo, non avete capito un granché lo spirito del video, ok? Va bene, allora inizio io, e per primo prendo King Corbyn. Sono ormai più di 15 mesi che il monarca prende pesci in faccia e perde a favore di chi deve scalare le gerarchie. Un premio sotto forma di rilancio, forse forse se lo è anche meritato, che ne dite? Poi opziono Samoa Joe. Se ho fatto bene i conti, sono otto mesi che il distruttore di certezze fa il telecronista, e non sono i suoi panni abituali. Rivederlo nel ring sarebbe innanzitutto sintomo che sta bene fisicamente, e poi è un lasso di tempo ideale per poterlo ripresentare come una forza di impatto con la quale fare i conti, senza avere negli occhi e nei ricordi la sua storia pregressa. Infine, metto nel mix, beh, anche una ragazza, dai, e cito Billie Kay, ben sapendo che la storia del curriculum che stiamo vedendo potrebbe condurla presto all'irrilevanza, persa nel mucchio, come dicono gli americani. Però Billie Kay è una veterana, e per molte è stata anche una chioccia attorno alla quale si è rivitalizzato il wrestling femminile australiano. E di conseguenza sarei felice di vedere, in qualche modo, riconosciuto quel passato con un posto al sole, o anche solo un posto migliore, ok? Mettiamola così nella categoria dei singoli. Bene, io mi sono espresso, adesso tocca a voi.